C'è Antonio Banderas che ha dei consigli per San Valentino, qualche prodotto. Certamente, come vedete, sto studiando un po' di prodotti, sto studiando un po' di cose, però ho già inventato delle cose per San Valentino. Per San Valentino, per esempio, eravamo stufi dei soliti cuoricini e metto a inventare questo. Eccoli qua, i polmoncini, quando il partner è il tecava il fià, perché non è sempre... Perché non è sempre amore, 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 ma anche delle volte che è di atriba, oppure che abbiamo, ad esempio, quelle qua, le milse, con ovvi sbattuti per un pieno di energia. Buon devo avanti un po'. I due odeni, eccoli qua, i due odeni con il bicarbonato, quando il partner fa ingrossare la bile, no? Dopo andiamo avanti e vediamo cosa che abbiamo inventato di nuovo. Vediamo un po', eccoli qua, i ciucciottini, morbidi baciotti alla fragola, perché proprio qua, dicevo così, quando magari la borrosa le distante, per esempio, oppure le tette e biscottate. Eccoli qua. Belle cicciotte, come piacciono a Gigi. Questo qua, Gigi, pensando a ti, o pensare, belle, alle tette e biscotti, belle cicciotte, come piacciono a Gigi. Quando andiamo avanti, sempre par Gigi, o pensare a questi qua, gli aiutini. Donna giunta del grano d'urro. Che, diciamo, è il principio attivo a quello d'urro e dopo anche al grano d'urro. Ecco. Vabbè, vivi noi, facciamo un applauso.